Francesco Obbe 80-72 che fa davvero male avete dimostrato che potevate tranquillamente vincere sì, una partita che potevamo vincere però onestamente con questo approccio mentale non possiamo vincere le partite né con la prima in classifica né con l'ultima per cui le possibilità ce le abbiamo per fare una partita contro questo tipo di squadra però dobbiamo cercare di metterle in campo scendere in campo con della cazzima in più della voglia in più dal primo minuto fino all'ultimo minuto perché se no iniziamo sempre a rincorrere come è già successo purtroppo questo è un nostro limite dobbiamo cercare ancora di migliorare di parlarci, di aiutarci di più di restare insieme per tutti i 40 minuti della partita perché se no lo ripetiamo da inizio anno in questo girone contro queste squadre qua non vinci purtroppo purtroppo questa è la verità Domenica arriva Cesena, derby gara davvero molto sentita l'occasione giusta per il riscatto molto sentita noi ci prepareremo bene con rabbia penso e spero che ce la metteremo in campo domenica giocheremo in casa arriveremo belli arrabbiati penso grazie Francesco ti lasciamo da Coach Friso io vi ricordo dunque 80-72 per ancora e vi ricordo di seguire in settimana www.ragisolaris.it ma soprattutto vi ricordo domenica ore 18 al Palacattani arriva Cesena partita da non perdere da Luca Del Favaro buona serata a tutti grazie